Abbiamo lo stand più figo di tutta la Games Week, raga, è gigantesco! Diciamo che quest'anno abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso, creare anche un po' di show, un po' di intrattenimento, non solo meet and greet, in modo tale da alzare il livello del concetto dello youtuber ad un evento. Io credo che sia importante essere qui per Team perché è evidente il passaggio verso l'utilizzo diretto di nuove tecnologie. Siamo un'azienda tecnologica, ci rivolgiamo evidentemente a un pubblico giovane, in questo caso anche molto giovane. Le nostre più moderne tecnologie sono al servizio della manifestazione, tra l'altro non voglio dimenticare il fatto che Team qui fornisce la connessione della fiera, indipendentemente dalla Milano Games Week. Noi abbiamo un accordo con Fiera Milano per cui abbiamo la connessione, portiamo la connessione, tutto quello che voi vedete in termini di capacità di connessione è realizzato grazie al supporto di Team qui in Fiera. Team ci ha permesso di provare la Team Box, quindi questa nuova piattaforma, questa nuova console, diciamo che è basata sul cloud, quindi ha la possibilità di permettere ai ragazzi di giocare su vari giochi, soprattutto divertenti e multiplayer con gli amici. E loro hanno provato un gioco di macchinina, come è stato? Divertente, molto divertente. Io ho fatto schifo, sono arrivato ultimo, però mi siamo divertiti. Noi siamo divertiti, diciamo che è perfetto penso per le famiglie in casa, per i ragazzi, per giocare in gruppo, è semplice e quindi porta il gioco ad un livello molto più grande. Molto più smart, molto più veloce. Siamo riusciti a realizzare un evento, potete vederlo da questo stand, un evento aperto, interattivo, interattivo a tal punto che ho in streaming in questo momento su alcuni negozi nostri. C'è il live dei giochi, dei ragazzi che stanno giocando contestualmente, quindi c'è tanto valore aggiunto che Team può portare alla manifestazione. Devo dire che è importante anche per Team essere in questa manifestazione perché si avvicina a un linguaggio diverso, a un target che è per noi importante, con una buona capacità a mio avviso di comunicare e un ottimo prodotto da comunicare. Noi utilizziamo tante tecnologie per i nostri eventi, dall'Oculus all'Holofan, sono tante le tecnologie che vengono utilizzate per rendere sempre più ricco l'evento e soprattutto la partecipazione del pubblico, quindi il momento di intrattenimento vero e proprio.